La CGL disegna la mappa dei tagli dopo la sospensione del reddito di cittadinanza, primato della Sicilia con 24 milioni di euro al mese e 288 all'anno. Attenzione ai falsi SMS-IMPS. La sospensione del reddito di cittadinanza determinerà in Sicilia una sforbiciata di oltre 24 milioni di euro al mese. Se il taglio sarà confermato nei modi e nei tempi previsti dalla riforma, così è e sarà, secondo un'analisi dell'osservatorio della CGL, ed è un calcolo basato sui dati dell'IMPS relativi al mese di giugno. Lo stop al beneficio economico coinvolge 37.645 nuclei familiari siciliani. In provincia di Palermo sono 11.573, nel Catanese 8.974, in provincia di Siracusa sono 2.844, poi 3.144 nel Trappanese, poi 1.728 nel Nisseno e 2.986 nell'Agrigentino, in provincia di Messina 3.937, poi 1.162 nel Ragusano e 1.297 in provincia di Enna. L'importo totale delle somme supera i 24 milioni di euro mensili, ed è una cifra molto superiore rispetto alle altre regioni d'Italia. Infatti, ancora secondo gli esiti dell'approfondimento del sindacato, in Lombardia gli ex percettori del reddito ammontano a 7.364, per un totale di quasi 4 milioni di euro tagliati al mese. In Toscana sono 4.094 famiglie, per un totale di poco più di 2 milioni di euro. In Emilia e Romagna le famiglie coinvolte sono 3.557, per un totale che sfiora i 2 milioni di euro. Quasi le doppie il numero relativo al Piemonte, 7.299 nuclei coinvolti e poco più di 4 milioni di euro. In Veneto 2.141, con una cifra che supera di poco il milione di euro. Su base annuale la Sicilia è sul podio, con un taglio di oltre 288 milioni di euro, nettamente distaccato dalle altre regioni in esame. Piemonte 50 milioni, Toscana 47 milioni, Lombardia più di 21 milioni, Veneto poco più di 13 milioni. E a fronte di ciò la CGL si appella alla regione siciliana, manifestando preoccupazione sulle conseguenze dirette e indirette della misura. Il segretario regionale Alfio Mannino afferma questo scenario impone una forte presa di posizione da parte del governo regionale e del suo presidente contro questo provvedimento e inoltre impone di attivare la strumentazione necessaria per dare risposte concrete a 40.000 famiglie siciliane a partire dai percorsi di formazione con una rivisitazione del programma GOL, la garanzia di occupabilità dei lavoratori, e con una riforma complessiva delle politiche attive del lavoro. Nel frattempo, attenzione ai messaggi sui telefonini che hanno già raggiunto migliaia di utenti, del tipo Gentile Utente. Per evitare la revoca dei suoi benefici impese, la invitiamo ad identificarsi. Per proseguire, clicchi su questo link. Il messaggio è una truffa tramite cui si tenta di trafugare i dati personali di molti cittadini che hanno subito la sospensione del reddito di cittadinanza. Gli hacker sono pronti all'agguato. Infatti, proseguendo nella procedura dell'SMS, l'ignaro utente si avventura in un sito falso, identico a quello dell'INPS. La polizia postale raccomanda di accedere al sito ufficiale dell'INPS, soltanto dalla propria area personale. Anche l'INPS ha diffuso un messaggio tramite social per avvertire i cittadini e ha scritto «Attenzione, sono in corso nuovi tentativi di truffa via SMS. Non cliccate sul link e non fornite nessun dato». Grazie!